Quanto oggi il web marketing serve alle imprese? Guardi, io credo che oramai il web marketing sia una ineludibilità. Anche chi non utilizza gli strumenti di web marketing oggi è consapevole di avere la necessità di fare questo salto. L'altro giorno parlavo con una mia studentessa, al quale ho affidato una tesi di laurea, lei mi raccontava come quest'anno c'è stato un incremento del 50% delle vendite online di libri. Il circa 38% dei libri acquistati dagli italiani viene ormai acquistato online. Credo che un dato del genere parli da solo. Tenendo conto che questo significa che le aziende tradizionali sono in ginocchio, hanno necessità comunque di fare questa formazione, di guardare a internet, al web come sistema nuovo economico. Ci sono settori che sono particolarmente interessanti? Sì, ovviamente ci sono settori in cui l'incidenza della digitalizzazione è più accelerata in confronto ad altri. Parliamo per esempio del settore dei freschi che ne risente di meno, però Amazon anche lì per esempio sta lavorando. Quindi prima o poi la tecnologia boosterà le porte di tutti gli imprenditori. Io ricapisco gli imprenditori che sono in difficoltà, soprattutto i piccoli e i medi imprenditori, come emerge dalla ricerca, che sono in grandi difficoltà. E proprio per questo per esempio le Camere di Commercio devono e hanno il dovere di investire in formazione. La Camera di Commercio di Crotone per esempio l'ha fatto l'anno scorso, lo rifarà quest'anno con un master in web marketing di 100 ore, con docenti di fama internazionale che vengono qui a Crotone. L'anno scorso abbiamo avuto il tasso di occupazione del 100% degli studenti, una sfida a quale la Camera di Commercio ha creduto, ci crederà quest'anno e noi invitiamo quindi le aziende e i giovani studenti a prendere visione di questa opportunità perché ne hanno bisogno loro ma soprattutto arricchisce il territorio che ha bisogno di queste professionalità. Questa è una terra dove si parla sempre della fuga dei cervelli, i nostri giovani una volta che vanno all'università difficilmente tornano perché non ci sono opportunità di lavoro. Un corso di questo genere può permettere di frenare e di fermare questa immigrazione? Ma certo perché garantisce agli studenti di avere know-how da dare alle imprese e arricchisce le imprese che possono vincere la sfida che è il futuro quella della digitalizzazione. Quindi è un trade union senza il quale un territorio non può pensare al futuro. Uno dei settori più importanti per noi è l'enogastronomia e l'agricoltura. Questi settori possono guardare al web, possono essere interessanti, non so, io guardo dall'altra parte del Mediterraneo ma anche al nord Europa. Ma lei pensi ad esempio alle campagne influencer dove si utilizzano testimonial per raccontare territori e prodotti. Quello che forse manca, oggi lo faremo presente, alle istituzioni e il ruolo anche delle istituzioni. Perché le istituzioni, ma io le capisco anche le istituzioni, perché queste tecnologie sono talmente tanto avanzate che è difficile per gli imprenditori, immaginiamoci anche per le istituzioni. Però c'è bisogno di un bagno di umiltà anche da parte delle istituzioni e capire e investire. Perché è impossibile che anche le istituzioni per esempio non siano presenti con dei voucher per corsi, non dico come il nostro, ma corsi in generale che favoriscono la digitalizzazione. Perché se no tutti ci riempiamo la bocca di queste parole, ma nei fatti se ne vedono pochi. Grazie.